Lei mi sta dicendo che i nostri ragazzi avrebbero in vacanza a Madrid da soli. Le consegue il fatto che io per tutto il periodo rimarrei inaspettatamente del figliol mio, Orbato. Orbato. Hai visto che... Abbandonato, lasciato solo. Lei è consenziente? Faccio male. Non è una decisione facile. Ma come si fa ad attrappare le ali? Come si fa a impedire che il frutto cada dall'albero? Come? Però su questi c'è l'albero domani, eh sì o no? Non è che ci stai. E sia, affrancatevi. Hai visto? Abbandonato capisce quando parla, ma mica è così strusso come... In senso affettuoso, papà.